Il mio cane è entrato nel soggiorno, ho sentito che ringhiava e aveva un comportamento strano, sicché a quel punto sono entrato in casa e ho sentito il rumore nelle camere, mentre andavo nelle camere questi sono scappati, saltando dalla finestra. A dare l'allarme è stata proprio lei la piccola Morgana, ma purtroppo la banda di ladri aveva già svaleggiato la villa che si trova sulle colline di Sansepolcro proprio mentre i proprietari di casa stavano cenando in veranda con alcuni amici solamente a pochi metri di distanza dai banditi. Erano circa le 22 dello scorso giovedì quando il cane ha iniziato a bagliare e a quel punto che la famiglia, ben conosciuta nella zona, lui infatti è un noto imprenditore e presidente di Confartigianato, lei invece un avvocato, ha fatto l'amara scoperta. Ho trovato tutte le camere completamente rovistate, quindi tutti gli armadi aperti, la roba in terra, tutti i cassetti aperti, il letto coperto di oggetti tirati fuori dai cassetti, tutte le scatole dei gioielli, degli orologi, mi hanno portato via orologi, gioielli, collezioni di penne, collezioni di monete, tutta una serie di cose che fanno parte un po' della storia di ognuno. In 20 minuti, tanto infatti sarebbe durato il ride, i ladri sono riusciti a portare via un bottino da decine di migliaia di euro. Il tutto è stato anche immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero adesso fornire preziosi indicazioni ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Abbiamo un documentario dove si vede effettivamente questa gente che gira per casa, molto scoperto, senza nessuna remora, con i guanti, con una torcia per inquadrare meglio le cose da prelevare. E, ripeto, rimane assurda la tranquillità e l'impunità con le quali questa gente gira. Adesso è caccia alla banda che ha svaliggiato la villa. I malviventi, per mettere a segno il colpo, avrebbero utilizzato un Audi di colore scuro che sarebbe stata usata anche per altre scorribande. Questi sono ladri che si dotano di macchine piuttosto potenti che gli permettono anche negli inseguimenti magari di seminare anche i tutori della legge. Credo che il territorio debba essere preservato e se questo significa dare alle forze dell'ordine anche maggiori mezzi, credo che sia un qualcosa che vada sicuramente dato.